A meno di 24 ore siamo di nuovo su via Pietralunga, ieri abbiamo parlato con il sindaco, oggi abbiamo l'assessore Giovanni Russo che è appunto l'assessore deputato per l'ecologia al comune di San Giovanni La Punta, parleremo con lui per vedere di risolvere al più presto la questione della via Pietralunga. Assessore, a che punto sono i lavori di ripristino di questa tormentata via di San Giovanni La Punta? Diciamo che finalmente, come rilasciato dall'intervista ieri dal sindaco, stamattina abbiamo iniziato i lavori a bonificare di buon mattino con la ditta tosto e speriamo che entro oggi o domani in massimo potremo terminare questa benedetta strada Pietralunga, la via Pietralunga. Nel frattempo possiamo sperare che ci sarà anche una sistemazione della strada, non solo della discarica che c'è ai suoi lati, ma anche della strada, è possibile sistemarla? Ci hanno richiesto molti dei cittadini qua della zona? Lo so, purtroppo i cittadini hanno dei... però noi in questo momento prima non approviamo il belancio comunale, non possiamo megnarci in qualsiasi cosa, se non avendo il benedetto belancio comunale. Agirete per priorità, ecco questa è la giusta cosa. Cercheremo come noi abbiamo fatto con dati all'altra strada e di sistemare anche questa, vediamo se ci riusciamo nella buona volontà che ci abbiamo messo sempre e metteremo sempre. Parliamo con il signor Lupica, il sorvegliante della ditta Tosto, della Sias, che appunto stamattina è venuto ad eseguire i lavori. Quali sono i materiali che avete tolto da questa discarica? Bene, come vi ho già detto poco fa, noi ci siamo attivati subito come ditta Sias, abbiamo tolto delle buste in cielo, fanno qualche busta di spazzatura traslocata nelle gomme, qualcosa vario, e un po' di spazzamento abbiamo fatto. Ma quindi adesso resta solo materiale edile da togliere? Sì, sì, solo inerti, questo che l'ha venuto qua, questo è il materiale che si deve togliere successivamente con un'altra bonifica che si deve fare, come ha detto già bene l'assessore Rosso. Perché sono materiali che devono essere differenziati in maniera diversa? Certo, certo, ovviamente questi sono inerti, non possono essere immischiati assieme agli attivi rifiuti. Grazie. 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 Grazie a tutti